No, adesso è in ordine. Poi il temporale che c'è stato là qui otto giorni fa era un disastro, però adesso vedo che hanno messo a posto. Il cimitero di Poleggio è tornato ad essere curato e in ordine. La scorsa settimana invece il suo stato di degrado era stato oggetto dell'allarme di due consiglieri comunali di minoranza che avevano raccolto le lamentele dei residenti. Da diversi giorni i cittadini di Poleggio si segnalano con messaggi, reclami, foto la situazione nel proprio cimitero. Vediamo che la situazione è di grave incuria. Segnalazioni corredate da numerose foto che evidenziavano le erbacce lasciate crescere attorno ai loculi e la persistenza di siepi e arbusti rinsecchiti. Oggi finalmente la situazione è cambiata. Due operai al lavoro da giorni hanno ripristinato l'ordine originario. A spiegare quanto è accaduto lo stesso amministratore unico di AMCPS che ha voluto raggiungerci direttamente sul posto. Per così poter far vedere che l'azienda è presente e che ha già svolto le operazioni di sistemazione del cimitero che erano programmate per mercoledì scorso. Oggi stiamo ultimando la ricarica del ghiaino sui vialetti e quindi con oggi abbiamo completato quelle che comunque erano operazioni programmate. Mi rendo conto che sia stato un momento anche di disagio per i frequentatori perché queste operazioni sono avvenute in ritardo rispetto a quanto pianificato. Abbiamo dovuto anche fare i conti con un'emergenza, quella del 27 luglio, che ha distolto delle energie degli operatori AMCPS e delle ditte che lavorano per AMCPS nella gestione del verde. Perché abbiamo affrontato un'emergenza di oltre 90 siti critici, più di 450 interventi fatti su piante e Valore Ambiente ci ha supportato raccogliendo 120 tonnellate di ramaglie di materiale verde. Per cui questo per dare il peso di quale emergenza e di quale impegno ha richiesto e richiederà ancora nelle prossime due settimane l'emergenza del 27 luglio.